Un buongiorno amici di Ante.it, un buongiorno e un bentornato tra virgolette a Daniele Nalli, Lanni, responsabile CGL della Nidil, perché è stato già ospite qui della radio e giustamente visto il suo ruolo importante che occupa a livello provinciale abbiamo scelto di farlo venire anche noi per Ante.it. Quindi mi stavi dicendo che Nidil è proprio un qualcosa che si occupa di cose specifiche. Dicelo tu, prego. Nidil CGL è la categoria della CGL che si occupa di precarietà. Nidil significa nuove identità di lavoro, si intendono nuove identità di lavoro tutti quei contratti e tutte quelle tipologie di lavoro che non fanno parte della rappresentanza tipica della CGL. Quindi collaboratori, piccole partite IVA, lavoratori in somministrazione e anche lavoratori con i voucher che sono un tema molto sentito e di cui stiamo dibattendo in questo periodo. Tutto questo mondo di precarietà è il mondo di cui si occupa Nidil e che Nidil cerca di rappresentare. Le difficoltà sono parecchie perché la normativa, la legge non aiuta, non viene incontro alle esigenze di una generazione che non ha diritti. Anche perché spesso parliamo di lavoratori più giovani o di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e che si devono ricollocare nel mercato del lavoro. Quello che facciamo è cercare con strumenti anche nuovi e innovativi rispetto a quelli che sono i metodi e le pratiche tipiche dell'organizzazione di dare rappresentanza a questi lavoratori che spesso sono quelli maggiormente in difficoltà, quelli più colpiti alla crisi e quelli che si trovano in una situazione di continua ricattabilità. Ecco ti chiedo Daniele, visto che tu rappresenti un po' il sindacato a livello provinciale, ecco il fatto diciamo la calamità, la terremoto ha avuto anche un qualcosa di maggiormente dannoso perché sappiamo che molte aziende purtroppo chi ha dovuto ridurre, chi è direttore ha dovuto chiudere. Quindi diciamo che penso è stato un po' un qualcosa che ha cresciuto ancora di più sto problema. Sicuramente sì, noi siamo un territorio che da questo punto di vista le sfortune le ha avute tutte. Siamo un territorio che è in crisi rispetto al resto d'Italia da quattro anni prima, nel 2004 come CGL, io nel 2004 ero l'inizio della crisi. Sì, diciamo che gli effetti maggiori sono iniziati dal 2006 in poi, stiamo oltre i dieci anni. Siamo un territorio che ha subito la fase post-cassa del mezzogiorno, in cui tutte le aziende hanno iniziato ad andarsene, che non ha mai sviluppato una propria economia nell'interno forte come altre province di questa regione hanno fatto e quest'ulteriore tragedia ha messo fortemente in crisi quello che è stato il nostro tessuto sociale ed economico. Le difficoltà sono forti e sono in queste ore. Insomma, quello che noi stiamo cercando di fare è essere vicini ai lavoratori, ai cittadini colpiti direttamente dal sisma. Ora in questi giorni l'ennesimo problema con la questione della busta paga pesante sembra, da ultime informazioni, che rispetto a quanto è successo all'Aquila, in realtà l'IRPEF, che può essere anticipato in busta paga, quindi per questo si chiama busta paga pesante, in realtà dovrà essere restituito interamente a dicembre 2017. Per cui noi quello che per adesso abbiamo detto è di andarci molto con cautela, perché magari si passa da una busta paga pesante senza le tasse, una busta paga molto leggera, perché poi le tasse andranno restituite tutte. Per cui le difficoltà sono tante, le situazioni di anche la risposta, mettiamola così, delle istituzioni rispetto alle problematiche dei lavoratori, a noi è sembrata un po' debole rispetto alla situazione drammatica che stiamo vivendo. In una situazione come questa, come sindacato dei precari, quello che ci preme dire è che se noi dobbiamo andare incontro a una ricostruzione che deve essere, si è detto in tanti convegni, in tante istituzioni, un'opportunità per il territorio, noi siamo convinti che debba esserlo, però deve essere un'opportunità per i lavoratori innanzitutto, per cui dobbiamo stare attenti a evitare che quello che poi succederà, dobbiamo stare molto attenti che non accada, che il lavoro che si creerà con la ricostruzione sia tutto lavoro precario, perché poi quello vuol dire, quando parliamo di lavori con i voucher, lavori di collaborazione o lavori a vario titolo non subordinati, non effettivamente dipendenti, parliamo di lavori che poi non hanno neanche l'indenità di disoccupazione, che non hanno praticamente i contributi per la pensione, non li hanno bassissimi. Quasi nulla, insomma, quasi nulla. Ti faccio una domanda specifica, ecco, tu stavi accennando ai voucher, il boom che c'è stato, diciamo, lo scorso anno, è un qualcosa che accresce di più la precarietà? Sicuramente sì, ne parlavo in radio, i dati di questa provincia rispetto ai voucher, l'utilizzo dei voucher nel 2016 sono spaventosi. 825 mila voucher che corrispondono circa, coinvolgono sicuramente almeno 2.500 lavoratori. Peraltro nella normativa non è scritto da nessuna parte che a un voucher corrisponde esclusivamente un'ora di lavoro e sappiamo spesso che a un voucher corrispondono due, tre, quattro ore di lavoro e che tante volte nasconde anche del lavoro nero. Sì, vuol dire più precarietà perché il lavoro con i voucher è un lavoro che, come dicevo, non ha contribuzione praticamente, non ha nessun tipo di indennità, non ha nessun tipo di garanzia. Diciamo, è un pagliativo, tanto per, diciamo, stiamo quasi a livello di lavoro nero, insomma. Sì, più o meno, anzi, in qualche modo regolarizza o nasconde quello che è il lavoro nero, cioè lo rende regolare, lo protegge e questo non è possibile. I calcoli che noi abbiamo fatto sono che considerando 825 mila voucher come 825 mila ore di lavoro, ma in realtà sappiamo che sono molti di più, sono calcoli a ribasso, i posti meno di lavoro sottratti al mercato del lavoro del Piceno sono 500, 500 posti veri, cioè con tredicesimo, quattredicesimo, con contributi. Il dato è spaventoso, è un aumento del 28% rispetto al 2015, un aumento del 96% rispetto al 2014, quindi vuol dire che praticamente in due anni i voucher sono raddoppiati. Esatto. E calcolando che il tetto massimo di utilizzo dei voucher per un singolo lavoratore è 7000 euro netti in un anno, con più aziende, perché con una singola azienda è 2000, se questi lavoratori facendo un calcolo ipotetico lavorassero tutto l'anno con i voucher, quindi facendo 7000 euro netti di utilizzo dei voucher per tutta la loro carriera lavorativa, questo lavoratore andrebbe in pensione a 70 anni di anzianità, con le norme che ci sono oggi, con una pensione di 208 euro mensili. Quindi parliamo della possibilità di creare veramente una generazione di, non solo di poveri oggi, una generazione di poveri oggi e di precari continuamente, ma una generazione che poi quando sarà in pensione in realtà sarà di nuovo povera e dovrà gravare sulle spalle della generazione futura. Non c'è un bel quadro, non è un bel quadro. Noi su questo siamo stati molto chiari, continuiamo a chiedere al Presidente Gentiloni di convocare le date del referendum, perché abbiamo raccolto complessivamente tra referendum e proposta di legge di iniziativa popolare 3 milioni e mezzo di firme, che sono una quantità enorme e non è mai successo nella storia della Repubblica. La consulta ha dato l'ok a due quesiti, quello sulla responsabilità solidarie negli appalti e quello sui voucher, per l'abolizione dei voucher. Chiediamo finalmente una data, perché aspettiamo ormai da 32 giorni, 33, chiediamo questa data e chiediamo di andare a votare. La nostra campagna è già partita e si chiama Libera il lavoro con due sì tutta un'altra Italia, perché noi vogliamo l'abolizione dei voucher e vogliamo la rintroduzione della responsabilità solidarie negli appalti, però questi sono due strumenti, sono due strumenti per mandare un messaggio politico. Più che altro per dare maggiore sicurezza al lavoratore. Per dare maggiore sicurezza al lavoratore, però sono due passaggi importanti. Noi crediamo e i sondaggi degli ultimi giorni ci danno ragione e crediamo che questi referendum li possiamo vincere. I sondaggi danno l'intenzione di voto oltre il 60%, per cui sarebbe un risultato straordinario che noi ci auguriamo. Però questi sono due strumenti per scardinare un sistema che non funziona, però bisogna ragionare e pensare in una maniera diversa il mondo del lavoro. La proposta da cui accennavo prima, che era la nostra carta dei diritti universali del lavoro, è una proposta che tiene dentro oltre 100 articoli e ripensa completamente il mondo del lavoro, allargando le tuteli a chi non le ha, immaginando un mercato del lavoro che pensi anche ai giovani lavoratori autonomi, che pensi che ristrutturi il sistema del lavoro subordinato, che pensi anche al lavoro occasionale, perché noi siamo consapevoli che il lavoro occasionale esiste. Non neghiamo l'esistenza del lavoro occasionale, però come in tutta il resto d'Europa chiediamo per il lavoro occasionale le stesse garanzie che ci sono per gli altri lavoratori. Di queste cose discuteremo sabato 4 alle 16 in sala consigliare, abbiamo come Nidilor e come insieme alla CGL di Ascoli organizziamo questa iniziativa a cui sarà presente Daniela Barbaresi, che è la nostra segretaria regionale, e saranno presenti anche tantissime associazioni, tra cui sia Elisa Marchetti, che è la coordinatrice nazionale dell'Unione degli Universitari, e Gianmarco Manfreda, che è il coordinatore nazionale dell'area degli studenti medi, e tantissime altre associazioni del territorio, perché vogliamo iniziare una discussione su questo. Siamo consapevoli che è un tema controverso, perché tante volte quello che si sente dire, anche discutendo così in maniera informale, è che i voucher possono servire per i piccoli lavori. È vero, dovrebbero servire per i piccoli lavori, però comunque dovrebbero avere un contratto. Esatto, non deve essere regola di vita. Daniela, io ti ringrazio per questa chiacchierata e se ti fa piacere, mi farebbe altresì piacere se ci rivieni a trovare, visto che sabato prossimo avete questo incontro, la prossima settimana, anche se voglio portare con te qualcuno a livello provinciale, per fare un po' il quadro di come è andata sta cosa e le varie prospettive future in virtù di questa raccolta di firme che potrebbe un po' andare a sensibilizzare il governo Gentiloni. Grazie a voi, noi siamo a disposizione anche perché nei prossimi giorni, per legge, entro 60 giorni deve essere convocata la data del referendum, per cui si farà questa primavera il referendum per l'abolizione dei voucher e per la reintroduzione della responsabilità solidaria negli appalti. Per noi sono due temi fondamentali e saranno i temi all'ordine del giorno. Noi ci auguriamo che questo governo si renda conto dei propri errori e che non prenda posizione contraria rispetto al referendum. Non so come andrà a finire, probabilmente prenderanno posizione contro il referendum, ma noi andremo delitti per la nostra strada perché tentiamo di essere dalla parte dei lavoratori e dalla parte dei cittadini. Va bene, allora ci diamo un evento all'appuntamento, a risentirci per la prossima settimana quando potete tornare per fare un po' anche un bilancio di questo incontro e eventualmente il prospettivo futuro. Grazie, buon lavoro. Grazie Daniele.